L'associazione Students Lab realizza il progetto Students Lab, promosso da IGS in accordo con Enterprise Education Trust. Enterprise Education Trust dal 1997 si occupa di promozione della cultura d'impresa con il progetto Achievers International, che coinvolge più di 30.000 studenti dei 5 continenti. Ogni laboratorio potrà entrare in contatto con studenti di altre nazioni. Students Lab è un contenitore di attività laboratoriali che si articola in Bits, durante le quali gli studenti danno vita ad una vera e propria azienda. Com, in cui curano la comunicazione per un'azienda a 360 gradi. Tech, dando vita a progetti ad alto contenuto tecnologico. I laboratori Students Lab sono svolti con la metodologia del Learning by Doing e seguiti da un trainer e un docente. Tutti i progetti partecipano alla competizione Students Lab, che si sviluppa a livello locale, regionale e nazionale, per accedere alla fase internazionale. L'associazione Students Lab è costituita da docenti, studenti, alunni, aziende, istituzioni che credono nel progetto.